La serie ST All Solid di Sigma Guitars rappresenta una delle più interessanti dell'intero catalogo e si compone di due modelli di chitarra davvero iconici, la OM o Orchestra Model, quella che io imbraccio in questo momento, e la Dreadnought. Entrambe le chitarre hanno top in abete solido ovviamente e fascia a fondo in mogano solido. Il mogano è anche il manico, la tastiera e il ponte sono in micarta, un composto sintetico a base di resine che rende queste chitarre particolarmente resistenti ai cambi di temperatura e di umidità e quindi rendendone l'accordatura più stabile. Le meccaniche sono diecast cromate, nut e saddle sono in osso, la scala da 25.4 pollici è lunga per entrambi gli strumenti e il nut è da 45 mm per la OM e da 43 mm per la Dreadnought. L'elettrificazione è affidata a pick up under saddle e preamplificatore Fishman Precys II con regolazioni di bassi, acuti, invertitore di fase, master volume e accordatore cromatico. Le chitarre della serie ST All Solid di Sigma Guitars possono essere trovate e provate presso tutti i Sigma Point sul territorio nazionale. Ciao!